9-1, proteggeremo la risorsa più che possiamo. Ripcord, chiudo. Sager 9-1, in volo! I motti brulicano di Viet Cong. Nessun civile. Tutti i bersagli sono traidi. Quali secchi, beh? Colpisce le capanne! Belger 9-1, abbiamo conferma visiva di un elicottero nemico. Da qua mi riescono a un grande elicottero! Infatti, infatti, puoi soffrire. Abbassi quella l'aereo! Puoi farcela, P. Avanti, Bel, stagli addosso! Stagli addosso, Bel! Avanti, coltino! Mi verrò beccato! Sì, l'hai beccato! Ottimo, Bel! Ne hanno squizzagliato un Eind, sono davvero incazzati per le informazioni che abbiamo fregato. 30 secondi alla batteri! Ripcord! Ripcord, qui Belger, non abbiamo avvicinamento finale! Ricevuto 9-1. Avvate ancora sotto assegno, fate attenzione! Rivederemo una zona d'atterraggio e prepareremo la risorsa per il trasferimento. Ricevuto, Ripcord! Che sai fare, Bel? Decaver! I bastardi si sono rinternati! Fuoco, fuoco! Non possiamo subire altri colti! Diversi bersagli in superficie! All'incorso, Bel! Con voglio di escoglio sulla strada! Distruggi quei camion di rifornimenti! Il nemico non deve riarmarsi! Vagiar 9-1 qui, Ripcord! Dovete respingere i rinforzi dei Gat Kong prima che ci distruggano! Attenzione, abbiamo diversi alicotteri in volo! Occhio, si parate! Sono trincerati tutti intorno alla collina! Distruggiamo quelle posizioni o possiamo scordarci di atterrare laggiù! All'attacco, così! Ripcord subisce gravi danni! Distruggi quei bersagli! Vagiar 9-1! I nostri rinforzi di segnare un grosso contingente nemico in arrivo! All'inforzi di segnare un po' di scopo! All'inforzi di segnare un po' di scopo!